Succesione estratta non sto a ripeterlo formalmente ma sostanzialmente noi abbiamo una successione di elementi in un insieme che può essere ad esempio un stanziometrico e il concetto di successione estratta è quello di togliere alcuni elementi della successione lasciando comunque una nuova successione quindi NJ è una successione di indici strettamente crescente IA con NJ rimangono a variare di G però non abbiamo più IA con N abbiamo una nuova successione che si chiama la successoressa allora non voglio fare le cose in generale siccome già ciò di cui dobbiamo parlare non è proprio proprio diciamo si capisce ma non di primo archito o meglio mettiamoci direttamente in una successione di numeri abbiamo una successione e abbiamo una successione strana allora vogliamo fissare alcuni fatti allora primo fatto proposizioni proposizioni se A con N è una successione di numeri reali e A con NJ è estratta da A con N e il limite di A con N è uguale a L sebbene sia vero in generale io l'ho scritto per le successioni di numeri reali cioè se una successione ha limite quando lo passa a una successione estratta conservo lo stesso limite la dimostrazione è facile io so che sia Epsilon maggiore di zero so che esiste un indice N tale che se N è più grande di N allora A con N meno N è meno N ma se J è più grande di N sicuramente NJ è più grande di N pure lui per quale motivo? gli NJ erano strettamente crescenti come si otteneva la successione estratta? allora si cancellavano alcuni elementi della successione di partenza quelli che sopravvivevano li chiamavamo a N1 a N3 a N3 e così via l'importante è che che ne sopravvivano infiniti allora vedete? N1 in questo caso è uguale a 1 quindi qua devo mettere N2 però è già 4 N3 è già 6 per quale motivo? N2 ogni volta che J aumenta di 1 NJ aumenta almeno di 1 e quindi quando N arriva al Ni è chiaro che N NJ scusate quando J arriva al Ni NJ sarà almeno Ni quindi se J è maggiore di Ni l'ho scritto bene NJ assorta anche lui è maggiore di Ni per quale motivo NJ è maggiore uguale di J che è maggiore di Ni vedete? N1 è maggiore uguale di 1 N2 è maggiore uguale di 2 N3 è maggiore uguale di 3 è evidente ok ma allora questo che vuol dire? vuol dire che NJ meno L è minore di Epsilon quindi andiamo a rivedere cosa abbiamo detto abbiamo fissato un Epsilon arbitrario abbiamo visto che esiste un indice Ni tale che se J è maggiore di Ni NJ meno L è minore è minore di Epsilon che vuol dire? quindi il limite di AnJ è uguale quindi la prossima quindi come vedete passare ad una successione estratta se c'era un limite non lo fa a perdere se la successione convergeva a 7 la successione estratta continua a converge a 7 ora questo ragionamento vale solo in R? no vale sempre anche se qui ci fosse stato uno spazio metrico e una distanza qua invece di esserci il valore assoluto della differenza c'era la distanza di A con N da L e qua c'era la distanza di A con N e C da S il ragionamento era perfettamente uguale precisamente quindi questo discorso vale sempre passando a una successione estratta se c'è un limite il limite si conserva il viceversa in generale non è vero quindi facciamo un esempio se prendo A con N uguale meno 1 alla N questo vi ricordate era la successione meno 1 a 1 meno 1 a 1 che non convergeva se adesso prendo la successione A con 2N cioè quella con i soli indici pari questa chi è? meno 1 alla 2N vedete NJ non è altro che 2G che fa sempre 1 quando N tende a più infinito se invece prendo quella con i soli indici dispari questa qua convergia meno 1 quindi dalla successione meno 1 a 1 meno 1 a 1 meno 1 a 1 noi ne possiamo estrarre 2 una che converge a 1 e un'altra che converge a meno 1 quindi non vogliamo perdere tempo perché il discorso poi lo facciamo in generale oggi però potremmo facilmente dimostrare che da questa successione non possiamo estrarre altre successioni che convergono altrove cioè se una questa non converge questa converge a 1 questa converge a meno 1 un'estratta di questa o non converge ma se converge o converge a 1 o converge a meno 1 per quale motivo? beh, solo i valori 1 e meno 1 prendi un'estratta che converge dove dovrà convergere? o a 1 o a meno 1 è chiaro questa non è una dimostrazione però si può facilmente formalizzare formalizzare con questo cosa voglio dire? deve essere chiaro il concetto che passare una successione estratta favorisce la convergenza cioè magari la successione prima non convergeva quando sono passata la successione estratta magari converge chiaro? però se convergeva prima a maggior ragione converge dopo cioè se una successione già converge io posso prendere tutte le estratte che voglio ma continueranno a converge allo stesso limite l'abbiamo dimostrato ok? viceversa se un'estratta converge non significa che la successione originale convergesse questa qua converge a 1 e la successione originale poteva anche non converge quindi mettiamola così è chiaro che è una metafora non è una cosa corretta però supponiamo che voi siate a un pranto e vogliate mettere d'accordo 50 commensali sul menu ce la fate magari no perché chi vuole il menu vegetariano chi vuole il menu vegano chi invece vuole non vuole un certo tipo di cibo chi ne vuole un altro se invece i commensali invece di essere 50 diventano 20 è più facile mettere d'accordo allora allora in una successione convergente diciamo che gli elementi della successione si sono messi d'accordo per la vicinanza a E qui non si sono messi d'accordo perché vedete meno 1, 1, meno 1, 1 non si sono messi d'accordo non convergono ma se prendo solo quelli di indice pari sono d'accordissimo valgono tutti 1 quindi convergono a 1 se prendo uno di quelli di indice e di spai sono d'accordissimo tra di loro e con i conti e meno 1 quindi l'operazione di passare una successione estratta rimuovendo elementi della successione rende più facile la convergenza questa è la metafora che vi deve rimanere impressa è chiaro fino a qui ora è chiaro Mentre quello che ho detto prima vale per le successioni in generale in qualunque spazio metrico, quello che sto per dire adesso vale solo in R. Prendiamo una successione di numeri reali. Abbiamo visto che il limite non esiste sempre, io però voglio definire una quantità che esiste sempre. Allora, anzi, addirittura di queste quantità ne posso definire 2. La prima si chiamerà massimo limite e la seconda si chiamerà minimo limite. Ora, prima cosa, massimo limite in genere si indica a volte e spesso con lambda grande, si scrive maxlim su n di a con n, vabbè, ogni volta che n si può anche scrivere n tende a infinito, non è la stessa cosa. Noi usiamo questa abbreviazione, sui testi potete trovare scritto anche così. ok? Ma si trova scritto anche come lim sub su n di a con n oppure lim con due abici su n di a con n oppure io preferisco usare l'appreviazione. Ok? Allora, perché scrivo queste quattro notazioni diverse? Questa non l'ho ancora definito in realtà. Scrivo queste quattro notazioni diverse per ricordarvi, ricordate il principio che se una cosa ha molti nomi qualche importanza ce la deve avere, sennò la gente non perdeva tutto il stesso tempo. Allora, chi è questo qui? Questo qui è il limite per k che tende a infinito dell'estremo superiore per n maggiore o uguale di k di a con n. Allora, b con k uguale l'estremo superiore per n maggiore o uguale di k di a con n, scritto per esteso, l'estremo superiore dell'estremo superiore dell'insieme degli a con n quando n varia da k in b. Questa è un'appreviazione per questo. Questo è per definizione. Allora, uno potrebbe dire, eh, se volete ci potrete anche mettere bene, questa è la definizione. uguale per definizione. Uno potrebbe dire, eh, io che ne so se questa successione ha limite. Allora, uno cosa può osservare? Vediamo un po' se avete capito. ma poi sempre li vediamo dopo. Però, cosa posso dire io sulla successione b con k? Questa è una successione al variare b k appartenente a n. che succede quando k aumenta? Allora, prima di tutto, com'è fatta questa? Se k è uguale a 1, qui devo fare l'estremo superiore di che? Di tutti i valori della successione. E' chiaro? E' un insieme numerico, sin e f è un sottinsieme di r, c'ha l'estremo superiore, chi ha l'estremo superiore? Se non è limitato superiore, è più infinito, se non è minimo di maggiorare. E se k è uguale a 2, chi è? E' l'estremo superiore di tutti i valori della successione a partire da a con 2. Se k è uguale a 3, l'estremo superiore di tutti i valori della successione a partire da a con 3. Cioè cosa succede all'insieme di cui devo fare l'estremo superiore? quando k aumenta. L'insieme si restringe. E quindi l'estremo superiore verrà? O uguale? O più piccolo. Quindi io posso dire che questa successione è una successione monotona, non cresce. ma allora ma allora allora questo limite noi sappiamo che esiste. Questo limite esisterà non è detto che sia un numero reale, potrebbe anche fare più infinito o meno infinito. Però esiste sicuramente. Perché esiste? Questo è uguale al limite di quelle che abbiamo chiamato p con k p con k p con k è una successione monotona che scende o attenzione che p con k pure lui sta in r ampliato. Quindi questo limite appartiene a r ampliato. Può anche venire più infinito. Quando è che può venire più infinito? Solo nel caso che p con k valga sempre più infinito. Allora facciamo degli esempi. Esempio 1 prendiamo allora prendiamo a con n uguale n su n più 1 per ogni n ha fatta in te. Quindi chi è questa successione? mi sapete dire primariamente la successione? Un mezzo due terzi tre quarti quattro quinti allora 10 con 1 che devo fare? L'estremo superiore di tutta la successione. ma la successione è? ok? Chi è l'estremo superiore? Il limite che fa? 1 b con 2 vale ancora 1 per quale lo dico se io rimuovo il primo elemento della successione? se io rimuovo il primo elemento della successione b con 1 è l'estremo superiore di quale insieme? dell'insieme un mezzo due terzi tre quarti quattro quinti e quattro quinti che vale? b con 2 è l'estremo superiore di due terzi tre quarti quattro quinti che vale? sempre 1 perchè avete dimosso un mezzo un mezzo non contribuiva all'estremo superiore quindi b con e b con k quanto fa? b con 2 quanto fa? se tocco anche due terzi l'estremo superiore quanto farà? b con 2 già abbiamo visto b con 3 quanto fa? se tolgo questo diventa b con 3 e quanto fa? sempre 1 fa e se prendo b con k fa sempre 1 quindi può succedere che questi in questo caso b con k fanno tutti 1 e il limite farà 1 facciamo un altro esempio esempio 2 stavolta a con n è uguale a 1 su n chi è b con 1? uguale a estremo superiore un mezzo un terzo quanto fa? superiore estremo superiore di questi insieme ricordate che unito col massimo in si stanno massimo all'insieme chi è il elemento più grande all'insieme? e qui fa un però stavolta b con 2 2 eh? quanto fa? ah stavolta fa un mezzo quindi b con k quanto fa? in generale fa 1 su k cioè è uguale ad a con k quindi abbiamo visto due esempi in realtà meno particolari di quello che sembra cioè per esempio se la successione di partenza era crescente questi b con k sono tutti quanti all'estremo superiore iniziale quindi se la successione di partenza era crescente b con k viene a successione costante se invece la successione di partenza era decrescente b con k chi è? è uguale a con k perchè la stiamo subito e riconcilia con il primo l m dovete sempre ricordarvi le definizioni ricordatevi, se non sappiamo le definizioni non sappiamo di che stiamo parlando chiaro? andiamo a vedere un altro esempio fatemi cancellare l'esempio 3 prendiamo a con n uguale a con n uguale meno 1 alla n uguale meno 1 alla n in questo caso quanto fa b con k? è chiaro a tutti che viene sempre 1 perchè a con n hanno solo due valori meno 1, 1, meno 1, 1 però li prendono infinite volte quindi quando io vado a fare l'estremo superiore non mi interessa da dove comincio o comincio da un indice pari o da un indice dispari avrò i valori saranno 1 e meno 1 oppure meno 1 e 1 e poi si ripeteranno quindi saranno sempre comunque solo due e l'estremo superiore coinciderà con il massimo e il massimo tra meno 1 e 1 fa sempre 1 e basta andare con l'estremo esempio 4 a con n uguale n per ogni n quanto fa b con k? no è l'estremo superiore di n per n maggiore uguale di k per esempio se b con 1 è l'estremo superiore di 1, 2, 3, 4 quanto fa l'estremo superiore? più infinito se ci tolgo 1 continua a fare se ci tolgo anche 2 viene sempre guardate è simile all'esempio 1 cioè se la successione era crescente l'estremo superiore coinciderà con il limite quindi al limite questa successione fa più infinito infinito ed era costante quindi può capitare che questi b con k non siano in r ma no se la successione è sostanzialmente uguale a più infinito che ne era ampliato cosa diremo? che tende a più infinito infinito se invece non è costante siccome la successione scende e 1 sarà finito dopodiché tutti quanti saranno finiti l'esempio 4 5 a con n uguale meno n quanto fa? per ogni n appartenente a n quanto fa b con k? b con 1 fa meno 1 b con 2 fa meno 2 perché se ci do con meno 1 adesso la metto più grande è meno 2 quanto fa b con k? b con 3 fa meno 3 b con k è uguale a da con k che è uguale a meno k guardate che è un caso particolare dell'esempio 2 se la successione scendeva b con k è il primo elemento della successione siccome stiamo partendo da k in poi a con k e quanto fa il limite? qua il limite di b con k fa più infinito qua il limite quindi il b con k fa? quanto fa? metri quindi come vedete tutti i casi sono possibili questa successione b con k può divergere dal più infinito però è soltanto quando i b con k sono tutti più infiniti altrimenti uno dei b con k sarà finito e tutti gli altri saranno più piccoli di lui quindi la successione sappiamo che scende diciamo non sale monotona non crescente però essendo monotona non crescente potrebbe anche scendere a meno infinito quindi possiamo avere che la successione sarà più infinito perché b con k vale sempre più infinito oppure la successione scende ed ha un limite finito oppure scende e va a meno infinito in ogni caso questo limite è definito ci sta sempre in r ampliare o vale più infinito o è un numero finito o vale meno infinito ma ci sta sempre per quale motivo? perché b con k è una successione monotona e noi abbiamo visto il teorema di regolarità delle successioni monotone questa è una successione monotona di numeri reali quindi l'unico caso in cui questi non sono reali almeno non definiti diciamo non sono definitivamente reali è quando sono tutti più infiniti e in quel caso diciamo definiti chiaro? adesso questo si chiama massimo limite poi vedremo perché questa notazione qua non l'abbiamo ancora spiegata l'im sup degli a con n si capisce perché questo è il limite di centri estremi sup e? ovvero che l'im è sup l'im con due apici sta due apici oppure barra sopra sta per sup quindi è la stessa cosa poi c'è un altro numero che possiamo generare a partire dalla successione con n che si chiama lambda piccolo cioè il lim inf minimo limite degli a con n oppure il lim inf degli a con n oppure il limite con un solo A degli a con n oppure il limite la barra la metto sotto mettiamola qui gli a con n chi è questo minimo limite? per definizione è il limite su K che cambia d'acqua che ci devo mettere? che ci devo mettere? invece del superiore che ci devo mettere l'estremo inferiore per n maggiore o uguale di K di Ia con n allora se io chiamo C con K l'estremo inferiore per n maggiore o uguale di K di Ia con n questo se lo volessi scrivere per esteso sarebbe l'estremo inferiore dell'insieme di Ia con n al valere di N da K ora cosa posso dire di C con K? come sarà fatta questa successione C con K? una cosa posso dire come quella dei B con K era monotona non? questa è sarà? come sarà? monotona non decrescente per quale motivo? che quando K aumenta l'insieme degli A con n si riduce perché dobbiamo considerare solo quelli con l'ingli maggiore o uguale di K e quando vado a fare l'estremo inferiore lo faccio l'insieme più piccolo ma l'estremo superiore l'insieme più piccolo è il massimo dei minoranti il massimo dei dei minoranti l'insieme più piccolo può aumentare l'insieme più piccolo ha più minore ok? adesso non mi fate rifare tutti e quattro andatevi a vedere in tutti e quattro gli esempi in tutti e cinque gli esempi di prima quando fa il minimo limite questo lo potete fare da soli come io che ho fatto il massimo limite per esercizi vi fate quello che possiamo dire tra il minimo limite è il massimo limite che è più grande? perché? perché è più grande il massimo limite? perché è ovvio che c con k che è l'estremo inferiore di questo insieme è più piccolo dell'estremo superiore quando vado a fare un insieme prendo l'estremo inferiore e l'estremo superiore l'estremo inferiore è sempre più piccolo è vero che quello è un l'estremo inferiore è un massimo sì però dei minoranti quello è un minimo sì però dei maggioranti e l'insieme dei maggioranti ci sono i maggioranti i minoranti poi ci sono quelli che non sono dei maggioranti e dei minoranti questi due insiemi sono sempre separati quindi abbiamo sempre k con k è più grande di k con k quindi per il teorema del confronto noi abbiamo fatto se le successioni sono reali però anche se sono a valori ampliati anche il più infinito e il meno infinito vale lo stesso se questo è più grande di questo quando passo al limite il limite di questo quindi il massimo limite è sempre più grande del minimo limite è chiaro questo? adesso prima di vedere perché su questo massimo limite e minimo limite dobbiamo lavorare un po' però prima di vederne le proprietà caratteristiche andiamo a vedere come si comportano massimo limite e minimo limite quindi è quando quando io vado a passare una successione stessa togliamo da mezzo gli esempi che non mi interessano più dove andiamo a fare come si comportano non mi interessano però anche se non mi interessano ma non mi interessano ma non mi interessano Allora, cosa voglio vedere? Allora, io ho una successione A con N Allora, io so che questa successione ha il minimo limite Poi c'è il massimo limite E questo è più grato di questo Adesso prendo una successione estratta Allora La successione estratta avrà il minimo limite della successione estratta lo chiamo lambda primo che sarà minore uguale del massimo limite della successione estratta che lo chiamo lambda grande primo Io vorrei capire come stanno messi questi nuovi minimo limite e massimo limite rispetto a quelli di prima È una cosa molto intuitiva quindi ci potresti arrivare da sotto Che succede al minimo limite? Che succede al massimo limite quando passano l'estratta? Il minimo limite? Cos'era il minimo limite? Era il limite di certi estremi inferiori Questi estremi inferiori quando passano l'estratta che succede? Gli a con n ci saranno tutti? No, ce ne saranno solo alcuni Quindi questi estremi inferiori saranno fatti su insiemi più piccoli Se sono fatti su insiemi più piccoli gli estremi inferiori ha o meno Quindi come sarà questo rispetto al minimo limite degli a con n sarà più grande E come sarà il massimo limite rispetto al massimo limite originale? Sarà Cioè cosa succede al minimo limite e al massimo limite quando io passo l'estratta? Si avvicinano Cioè il massimo limite si riduce e il minimo limite aumenta Ricordatevi però che il minimo limite non potrà mai superare il massimo limite Quindi questo adesso lo scriviamo formalmente lo dimostriamo non è è evidente ma lo dimostriamo quindi quindi è coerente questo fatto con quello che abbiamo detto prima all'inizio dell'ora certo perché avvicinandosi secondo voi quando convergerà la successione? questo lo vediamo nella prossima volta quant'è che converge la successione? quando il minimo limite il massimo limite coincidono se solo se la successione converge questo lo dimostreremo quando il minimo limite il massimo limite poi coincidono se coincidono saranno entrambi uguali perciò si chiamano minimo e massimo limite che comunque sono parentali chiaro? allora vedete che il passaggio a una successione estratta non fa altro che avvicinare questi due numeri avvicina 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 magari a un certo punto sono uguali quando sono uguali la successione converge quando io ho una successione in cui il minimo e il massimo limite sono uguali e passano l'estratta che succede? che rimangono uguali perché non possono più cambiare cioè più avvicinate di così sono uguali chiaro? ok ora allora innanzitutto dimostriamo queste due disuguaglianze il liminf su j di anj è uguale all'estremo al limite su k dell'estremo inferiore di anj tale che j è maggiore o uguale di k che è più piccolo del limite su k dell'inf degli a con n tali che n è maggiore o uguale di k perché vi ricordo che se j è maggiore o uguale di k vi ricordo che nj è maggiore o uguale di j ma se j è maggiore o uguale di k nj a sua volta è maggiore o uguale di k quindi questi elementi qua stanno anche qua però qua ce ne potrebbero stare alcuni che qua non ci sono quindi scusate maggiore o uguale quindi questo insieme qua è più grande se l'insieme è più grande l'estremo inferiore è più piccolo poi questa successione qui è comunque monotona non decrescente il limite ci sta di qua il limite ci sta di qua ma siccome questo numero è più piccolo di questo il limite ci sta più piccolo di questo quindi questo qui ecco il limite il limite su m su m su m allo stesso modo questo lo riscrivo di sopra che vale senso, eh? nj maggiore o uguale di k maggiore o uguale di k se io ho l'im su j degli a n j questo è uguale al limite su k dell'estremo superiore degli a con n j per j maggiore o uguale di k che è minore o uguale al limite su k dell'estremo superiore degli a con n per n maggiore o uguale di k per quale motivo? prendiamo per esempio k uguale 3 se io prendo a con n per n maggiore o uguale di 3 ci sta a con 3 a con 4 a con 5 ci sono tutti questi 4 se per qua prendo j maggiore o uguale di 3 ci sta a n 3 a n 4 a n 5 che hanno tutti gli indici maggiore o uguale di 3 ma non sono tutti quelli di prima quindi questo insieme contiene sicuramente questo allora l'estremo superiore di questo è più grande l'estremo superiore di questo e il limite di questo è più grande l'estremo superiore di questo ok? che è uguale all'im su fa su e quindi vedete questo era lambda grande questo è lambda grande primo questo è lambda piccolo primo quindi vedete che quando passano l'estratta il liminf aumenta e il limsup diminuisce ok? allora prima di fare pausa voglio dire ancora una cosa questa cosa poi la scriveremo al momento opportuno e la dimostreremo pure allora io ho una successione massimo limite vale 7 minimo limite vale 1 faccio un'estratta e so che l'estratta ha un limite L questo limite può essere 9 allora il massimo limite in origine valeva 7 minimo limite valeva 1 quando passa l'estratta che succede? questi si avvi quando è che la successione converge quando questi sono 8 possono essere uguale a 9 e no che parto da 7 quello scende quindi se una successione converge è un'estratta dopo la converge ha un valore compreso tra il minimo limite e il massimo limite allora perché si chiamano minimo limite e massimo limite? perché ce ne sarà una successione estratta che convergerà al massimo limite quello sarà il massimo di tutti i limiti possibili dell'estratta cioè se in origine il massimo limite faceva 7 e io trovo una successione estratta che converge a 7 ci può stare una successione estratta che converge a più di 7? abbiamo visto prima no quindi il massimo limite possibili il massimo dei limiti delle estratte possibile è 7 questo è il motivo per cui si chiama massimo limite anche va bene qua perché coincide con il massimo dei limiti delle successioni estratte questo qua si chiama minimo limite perché coincide con il minimo dei limiti delle successioni ora questo io non l'ho dimostrato attenzione io ho dimostrato solo che un estratta che converge deve convergere un numero compreso tra il massimo limite e il minimo limite però un po' più difficile poi lo vedremo far vedere che c'è proprio un estratta che converge al massimo limite magari che ne so il massimo limite faceva 7 il minimo limite faceva 1 però quando le vado a far convergere sempre una cosa in mezzo non riesco a tenere invece no è possibile trovare un estratta che converge al massimo limite in questo caso è possibile trovare un'altra estratta che converge al minimo limite in questo caso chiaro? questo poi lo dimostreremo quindi effettivamente si chiamano lim sub e lim infer perché sono i limiti di certi estremi superiori e di certi estremi superiori ma si chiamano anche massimo limite e minimo limite perché coincidono con il massimo dei limiti delle successioni estrate oppure e l'altro coinciderà con i limiti dei limiti di tutte le possibili successioni estrate chiaro? non è difficile pausa